meno burocrazia, carta e timbri, meno adempimenti, ingiustizie, meno distacco dalla vita reale di chi produce, meno distanza dalla lingua italiana, e, se saremo bravi, anche meno balzelli. Ernesto Maria Ruffini è oramai MR Fisco, e la sua filosofia può essere condensata nella lettera inviata ai dipendenti della Enzia delle Entrate nella quale parla, anche di una nuova strada da parcorrere, in un confronto con i contribuenti, nel quale gli italiani non vanno considerati evasori ma cittadini. La lettera, quasi un programma da realizzare, arriva poche ore dopo che la Corte dei Conti, ha dato l'ultimo parere necessario sulla sua nomina e ora guida la portaerei del fisco italiano, oltre alla nuova agenzia della riscossione, e delle entrate nata dalle ceneri di Equitalia. Ruffini disegna ai dipendenti quel fisco amico fortemente voluto da Matteo Renzi, e che ha preso forma soprattutto con la dichiarazione dei redditi precompilata e con la fatturazione elettronica, due idee, ricordano gli uomini che gli sono vicini, che proprio Ruffini aveva lanciato alla prima Leopolda, già nel 2010.